In realtà la prima cosa che serve per assicurare il buon funzionamento delle amministrazioni è conoscerle, cioè avere dei dati precisi su cui si possa poter intervenire con cognizione di causa. Per questo credo che sia fondamentale che tutte le amministrazioni diano il massimo della collaborazione a questa attività istituzionale dell'Istat, proprio perché avere i dati significa avere conoscenza e dalla conoscenza si può consentire di intervenire sul funzionamento delle amministrazioni con misure appropriate e calibrate alle singole amministrazioni.